Vivere la natura secondo le modalità più disparate, visite guidate, laboratori, conferenze sul campo, percorsi sensoriali, lezioni pratiche, tree watching, incontri con chi i giardini li cura e li protegge per mestiere, atelier didattici per i più piccoli e tanto altro. Tutto questo è Vivi il Verde, alla scoperta dei giardini e dei parchi dell'Emilia Romagna, giunto alla quarta edizione, iniziativa ideata e promossa dall'Ibc, l'Istituto regionale per i beni culturali. Inauguriamo qui a Bologna, al Baraccano, con una mostra, giardini di città e una mostra fotografica, che è l'esito di un workshop fotografico realizzato nella scorsa edizione di Vivi il Verde. Realizzeremo altre visite a giardini, come al giardino di Villa Spada, con un trekking teatrale che continuerà per tutta la mattinata e ci sposteremo a San Marino di Bentivoglio per la presentazione di un libro, sempre dell'Istituto, il Pomario della Villa, dedicato al Pomario dell'Istituzione Villa Smeraldi, che visiteremo. Oltre 120 per decine di aria verdi coinvolte da Rimini a Piacenza, tra giardini pubblici, storici, parchi, orti botanici, aria verdi e giardini di ville o di castelli. Presenti anche gli orti botanici, in particolare quello dell'Università di Bologna, uno dei più antichi d'Europa, con visiti e approfondimenti. Altre curiosità in tutta la regione, anche a Modena, visiteremo il bellissimo giardino a Castelfranco Emilia di Villa Sorra, a Nonantola avremo la possibilità di visitare in notturna la partecipanza agraria e così alla mattina all'alba, e tante altre iniziative al Parco Ducale di Pagullo, nei giardini dei castelli dell'ex ducato di Parma e Piacenza, e tanti modi di vivere il verde diversi, addirittura con una mongolfiera al Parco Bucci di Faenza.